Si è e si rade la trentesima edizione di Friuli Doc, anche gli avvenimenti collaterali organizzati in città, che c'è di che i parra cure di Arlef, tra che la presentazione dal nuovo video di Iupaltubo Frico a Sbreghe Balon, ovviamente è velato con il presidente di Arlef, Eros Cisilino. La lingua furlana appena le nuove generazioni con la tradizione, non come culinaria, ma identitaria del Friuli. E qui con noi vengono i frutti, i fantasti, dal Iupaltubo, che ringrazio per essere così attivi e soprattutto per aver fatto tanti video, che abbiamo avuto tantissimi seguiti, ma soprattutto per cercare di partire in una avventura che appunto partireà il nostro re dei plaz, alla nostra attenzione, con anche cerchi importanti che, insomma, non si farà un plaz, non nemmeno perché riguarda il nostro palaz, ma soprattutto il nostro chiave di Furlangs, che avverrà sicuramente implementato con queste nuove informazioni che riceverò. Grazie a loro. E allora vi ho dimmi insieme il video di Iupaltubo, frico a sbreghe ballon. Amici, tutti, bentornati su Mangia e Morì. Quando si fa bene di mangiare, a me mi piace tutto. Ma una delle cose che mi piace neppure è il formale. Attarie, vecchio, frant, nevato, quel cioc, talfeng. Qualcissà di formale mi manda in paradiso. Mmm, c'è golis. Dunque, osservate che dal formale al frico, c'è un momento. Il frico è come le sorelle, e tutto il mondo Furlang si corre attorno a attorno. In strutture, potremmo dire che il Furlang ha un sistema fricocentrico. Tutto, se c'è l'occhiato dal frico al friole. Il frico ha un plaz, che ha un plaz un strumento di sapore e di sfumature. Non importa quello che lo fanno e quello che abbiamo fatto. Non c'è l'occhiato d'occhiato. Se avendo il profumo al frico, bielont, molto per dentro e crustendo il parfum, formando un montaggio di lattarie e vecchio, patatis e un po' di zivole, che secondo me ci dà che il tic in pluie. E intanto che io ho taituto, vi conto la sua storia. Si senti a insin da ur, il ciammerà Ludovico Trevisan, che poi ha diventato patriarci di Aquilè, aveva fatto. Ve allora che il suo cogo Mastro Martino ha metto quei tepadiele, formati a fin con un ardiel o sponge, una spolverata di zucchero e cannele, e vele una grande frittura di formati biele e crustoline. Mastro Martino aveva preparato il primo frico di storie. Anche se lo ha inventato, però non ha dato il nome. che ha entrato in sene il signor Platina, un nominato gastronomo di che volte, e lo chiamava caseus frictus, benestai formati fritto. Quel tempo ha diventato frico, anche se qualche donatore ha derivato il nome della parola francese fricot. Quando Cristoforo Colombo è tornato in America, non si ha partato un regalo, c'è tanto signor, la patate o cartufola, così ci siamo capiti. E di fatto, è finito in corte dentro dei fricchi delle famiglie furlani, diventando uno degli ingredienti della tradizione. In questo caso, quel tempo si è scomenzato a preparare anche gli strisoli. Gli strisoli sono sempre calvanti delle forme di formati, quando sono molto fresche, e vengono passati sotto la presa. Dunque, sono perfetti per fare il fricco, e danno un sapore più delicato che non dopo il formato diverso. Ma il fricco non si ferma in frio. No, no. Si cercare di lui, anche di là degli mondi e degli occhi, perché è diventato un plato gourmet. Un chef furlano emigrato negli Stati Uniti, Luca Manfè, ha vinto il Masterchef USA preparandolo per l'entrata della sfida finale. Con il fricco, tu vinci in qualsiasi sede di occasione. Faci la tua fiesta per il tuo compleanno, metti sul fricco. Se tu vuoi farlo, metti sul fricco. Stai tu, ma al clara, metti sul fricco. Vuoi farvi le figure con la tua mia foresta? Faci il fricco. E come vuoi? Manginlo! Vi ho detto di fricco che il po' le ha e mi raccomandi, notai se al canale, se no, noi affricco per guatris.